Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,67% sulla stessa linea, performance positiva per il Nasdaq 100, che termina la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Infrazionale progresso il Nikkei 225, più 0,2%. Infrazionale calo l'indice cinese Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Senza slancio francoforte, che negozia con un meno 0,07%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a meno 0,2%, Parigi è stabile, riportando un misero meno 0,11% In buona evidenza Milano il comparto bancario, con un più 0,71% sul precedente Ottima performance per banca MPS, che scambia in rialzo del 5,93% In Germania, pubblicati gli ordini dell'industria, pari a meno 2,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della variazione occupati e del tasso di disoccupazione. In Germania lunedì i mercati sono in attesa della produzione industriale In Germania In Germania In Germania In Germania